Come saprete in questi giorni vige la cosiddetta zona rossa in tutta Italia a causa del coronavirus e per gli spostamenti per motivi di lavoro è necessario compilare una autocertificazione. La autocertificazione è questa che adesso vi linkerò il pdf e la potete scaricare nella descrizione e in sostanza è la vostra dichiarazione che vi state spostando per motivi lavorativi. Può essere utilizzata anche per motivi di salute o più semplicemente per andare a fare la spesa al supermercato è obbligo averla o comunque compilarla se vi fermano le forze dell'ordine al momento è obbligo di compilarla anche semplicemente per andare a fare la spesa al supermercato. È importante che seguiate le cose che ci stanno dicendo tutti in questi giorni aderite se possibile come sto facendo io all'iniziativa e alla campagna Io resto a casa lavorate sul computer, su internet e fin dove è possibile lo so che è difficile per tutti però è una battaglia anche di civiltà oggi ho saputo che uno dei miei clienti è stato insomma affittato dal coronavirus quindi è importante per tutti, per la salute di tutti. Vi auguro il meglio e a presto. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi così nei prossimi giorni ci saranno altri video molto probabilmente anche su questo argomento. Ciao a tutti.